ok ragazzi benvenuti in un'altra puntata di full timer pesca anche la maglietta roba tosta allora oggi proviamo la nuova barchetta comodità pesca la prima cosa che farò è mettere questa axion cam per poi vedere come funziona quant'altro qui sopra e faremo la posizioneremo qui sopra attacchiamo con un classico scotch niente di più niente di meno passare sotto voglio essere bello carico se riesco eventualmente prendere un pesce axion cam della cubo attaccata impressionante adesso andremo a posizionare queste due calamite calamita calamita una var attaccata un ferro una corda lo decidere alla barca l'altra verrà attaccata al terminale cosa succede che andando in giro con il mio artificiale tutte le volte che io prendo un pesce se lo prendo la calamita si stacca io posso lottare tranquillamente col pesce adesso lo faccio vedere anche tramite la fotografia delle istruzioni poi eventualmente passo delle fotografie che metterò sul video praticamente come ho detto calamita doppia calamita vado in giro con la barchina artificiale quando il pesce attacca le due calamite si staccano adesso vi faccio vedere metterò un ferro praticamente lo metterò in questa parte qua perché voglio che non sia proprio una lenza molle perciò mettiamo una cosa di questo genere qua così la distanza la decido in seguito metterò qua così e questo tiene il terminale vedete calamita aggancio io ho messo un fil di ferro perché sinceramente non voglio che vale che sia molto mobile che sia abbastanza fisso adesso forse farò anche una prolunga con un pezzo di qualcosa di rigido perché morbido non mi piace ok ragazzi adesso procederò con l'aggancio della calamita sul mio terminale la prima cosa che mettiamo una bella girellina così vedete ok ragazzi ora dobbiamo mettere il magnete alla alla canna semplice facciamo passare prima rondellina se qua farò un movimento poi dopo lo perfeziono in tutto perfetto colleghiamo il terminale con l'artificiale ecco è venuto adesso perfetto vediamo il mio artificiale leghiamo il mio artificiale perfetto l'effetto è questo vedete qui uno artificiale sta in basso prendo la calamita la ripongo nel nell'occhiello alto così sono sicuro di non perderla devo riuscire a farlo passare ecco qua perfetto questa è la calamita verrà attaccato qui vedete alla macchina che succede quando il pesce tira il pesce tira stacco e io tiro il mio pesce ottimo ora dopo questa sequenza di video lo faremo in pesca per vedere se veramente funziona in seguito partirà il video dove andrò a pescare con la calamita e il mio bell'artificiale mi raccomando full timer pesca segnatevi campanellina così sarete sempre aggiornati sui nostri video un saluto da full timer pesca campanellina così Grazie a tutti.